Magi ciao Non credevo che esistesse un gioco peggio dei giochi per ragazze E invece Guardate Guardate Allora io vi invito a spegnere questo video prima che sia troppo tardi Comunque se siete ancora qui va bene Contenti voi Adesso andremo a vedere questo bel gioco Allora Hero vs Soul Eroe contro sapone Bene Già dalla prima schermata si può vedere che il gioco Chiamarlo gioco già direi che sia troppo a questo punto Vi direi già di spegnere il video Comunque se volete andare avanti adesso andiamo avanti Continue Continue Allora abbiamo questo che chiamarlo eroe mi sembra Un insulto a qualunque personaggio esistente Anche anche Cioè un insulto anche a schettino diciamo la verità E questo qui chiamarlo sapone è un insulto a mia nonna Allora clicchiamo sul primo tasto jump Bene Io non ho cliccato nessun tasto Possiamo tornare indietro Adesso c'è Bino Benissimo Oddio santo Oddio santo sono già al secondo tasto e sto morendo Va bene torniamo indietro St Questo qua lo mino si va a pezzi Benissimo E adesso l'ultimo tasto Ok Che dovrebbe pensare di Adesso il gioco è stato fino a qui una merda Direi che adesso inizieremo con il vero gioco Direi no You win Thanks for playing Parole a caso Stay tuned for the next game Bene Bene Replay col cazzo che Va bene Col cazzo che ci gioco Però ragazzi 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 Schifo